Eccoci tornati in diretta America USA 2020, Trump Biden ultimo round, parliamo di questo nel nostro slot per una ventina di minuti, è doveroso farlo soprattutto perché ormai il countdown per le presidenziali era già partito ma insomma è ancora più veloce e soprattutto quello di questa notte, ora italiana, è stato l'ultimo dibattito tra i due pretendenti alla Casa Bianca, l'attuale presidente americano Donald Trump e lo sfidante Joe Biden. E allora io saluto Alan Friedman che commenta con me il giorno post dibattito, Alan ben trovato anche per questa settimana. Grazie, buongiorno. Buongiorno, allora io sono andata come sempre a spiare sul tuo account Twitter e leggo il seguente appunto post da cui partirei con te. Ultimo duello TV vinto da Joe Biden emerge da un sondaggio della CNN, l'avversario di Trump avrebbe raccolto il 53% delle preferenze. Di fatto quindi Alan, visto che appunto questo era l'ultimo scontro tra i due, si può dire che i dibattiti siano stati vinti dallo sfidante democratico quindi che ancora una volta si riconferma come dire in pole position, almeno nei sondaggi per la guida della Casa Bianca. Sì, nel senso che avremmo dovuto avere i soliti tre dibattiti, abbiamo avuto solo due perché Trump ha cancellato il secondo dibattito con qualche pretesa. Nel primo dibattito Trump era imploso, era balbuziente come uno che si trova un senza tetto urlando dei slogan contro il comunismo con la saliva che usciva dalla labbra e quindi Biden ha stravinto nel primo. Stanotte Biden ha vinto ma non ha stravinto, nel senso che la Commissione per il dibattito ha inventato una nuova regola che quando parla uno l'altro sta zitto e siccome Trump interrompeva sempre i Biden, l'ultima volta era un casino, questa volta hanno spento il microfono di Trump per due minuti e hanno spento il microfono di Biden per due minuti quando ognuno dava la prima dichiarazione sul segmento. Biden è stato presidenziale, è stato serio, è stato empatetico, ha parlato della tragedia di coronavirus, Biden si è mostrato un vero leader dicendo che certo non vogliamo chiudere l'economia, non vogliamo un lockdown perché Trump ha accusato Biden di voler un lockdown, ma Biden ha detto no, io voglio battere il virus, non l'economia. E Trump è tornato ad attaccare Biden sul suo figlio, ha accusato Biden di aver preso 3 milioni e mezzo di dollari dalla moglie del sindaco di Mosca che anche per Trump è una teoria inventata abbastanza imbarazzante, nel senso molto falso, ha accusato Biden di aver preso miliardi di dollari dai cinesi, ci ha detto le cose insensate, ovviamente è Biden ha spiegato che Trump, che è stato scoperto con il conto segreto in Cina, della banca in Cina, e che Trump è preso soldi da Russia e tutti gli altri paesi in un conflitto di interesse chiassoso perché tutti i governi con cui Trump dovrebbe condurre la politica estamericana invece pagano il suo albergo a Washington per prenotare Camera. E quindi è stato un dibattito alla fine non così accettante o così importante, ma alla fine con un tono più pacato per il fatto che si sono riusciti a spegnere il microfono di Trump, quindi poteva interrompere. Era meglio comportato, evidentemente i consiglieri di Trump hanno detto non perdere le state e questa volta stai più calma. Infatti volevo proprio chiederti questo, Alana, indipendentemente dalla scelta di spegnere il microfono appunto per evitare risse, per evitare concitamento eccessivo come quello che abbiamo visto nel dibattito, insomma nel primo dibattito che abbiamo discusso insieme, si è notato proprio questo atteggiamento più pacato? È stato definito, almeno leggendo un po' le varie rassegne stampa di questa mattina, sul dibattito, uno scontro, perché vabbè poi le frecciatine ci sono state, le hai ricordate anche tu, ma sicuramente uno scontro civile, questa è la parola che è stata utilizzata. E tu, guarda, ti faccio una domanda, insomma con un sorriso, tu hai anche detto giustamente è stato un dibattito magari meno eccitante, non propriamente eccitante, mi verrebbe da dire che quando si usano dei toni più civili, più pacati, però si perde un po' quella, come dire, no, quell'eccitazione, quell'enfasi che invece arriva quando invece i toni sono più alti, no? Allora, è una domanda molto intelligente, la maggioranza di noi americani, non tutti, perché c'è sempre un 40% dell'America che ama Trump lo stesso, la base, la famosa base, ma verso il 60% degli americani sono stufi, stanchi, esauriti da quattro anni di insulti, di urlate, di tweet aggressivi, di un presidente che sembra non rispettare lo Stato di dritto, che non rispetta la democrazia, che si fa dire da Putin come fare e che lancia gli attacchi contro il giornalista e contro la stampa libera. Un presidente veramente aggressivo, sempre rabbioso, sempre urlato e quindi l'America aspetta, almeno il 60% dell'America a mio avviso aspetta un po' di tranquillità, sarebbe bello avere un presidente noioso, sarebbe bello avere un po' di calma, sarebbe bello non vivere questa isteria con la retorica incendiaria ogni santo giorno, perché ogni mattina si sveglia l'America e si vede l'ultima, non è la parola per bene che sto cercando, l'ultima sparata grossa di Trump, diciamo così. Sì, l'ultima sparata o sortita, certo, assolutamente sì. Quindi insomma l'America vorrebbe un po' più di calma, di pace, soprattutto in un momento in cui c'è questo… Non tutto l'America, non la base di Trump, a loro va bene urlare, a loro piace. Forse aggiungo un elemento, Manuela, la base di Trump, se li chiedi, e io ho chiesto a tanti di questi, ma negli ultimi sondaggi anche, si vede che la base di Trump l'ha votato soprattutto perché era per 14 anni in televisione, il Flavio Priatore in America, il conduttore del programma L'Apprentice, e soprattutto perché pensavano, ah, sembra ricco e bravo in tv, quindi l'ho voto. Adesso c'è una parte di quella base, anche quelli meno iscritti che cominciano a dire, eh, forse ho sbagliato, un po' di rimorso c'è, questo è importante. Lui è soprattutto bravo in tv, ma è pessimo il governo. Alan, guarda, ti faccio un'altra domanda che peraltro credo ne possa contenere due insieme. Allora, diciamo che secondo molti in questo dibattito ha vinto ancora una volta, perché anche la volta precedente abbiamo parlato della moderatrice. La moderatrice Welker, che è la seconda giornalista afroamericana, a condurre un dibattito presidenziale, no? Precedentemente dobbiamo tornare al 92 per ricordarci quello che ha preceduto appunto quello di stanotte. Secondo qualcuno, diciamo, che è riuscita, a parte a tenere vada i due, insomma, che non è facile, indipendentemente, ripeto, dalla strategia del microfono spento, ma soprattutto perché ha affrontato uno dei temi caldi di questa campagna elettorale, oltre a quello del coronavirus, che lo accantoniamo un attimo, che è il tema, insomma, razziale. Ti chiedo, cosa ne pensi della moderatrice? Poi la seconda domanda, come ti dicevo, quindi due domande in una, quali sono stati i momenti più emotivamente interessanti, più emotivamente caldi del dibattito di stanotte? La moderatrice è una donna non soltanto di colore, con una parte afroamericana, ma è anche una parte popolo indigeno, cioè American Indian, e quindi è quintessenzialmente americana, perché è metà popolo indigeno, American Indian, è metà donna di colore, e lei è stato attaccato con grande parolacce da Trump nelle ore e giorni prima del dibattito, lui ha detto è un sinistroide, non mi fido di lei, invece lei si è comportato in modo ineccepibile, questo è un esempio del giornalismo che ci piace, era calma, l'unica critica che avrei di lei è che quando Trump ha mentito chiassosamente, dicendo una cosa che sappiamo sia falso, lei non l'ha corretto, ma forse c'erano troppe bugie da Trump e quindi non c'era tempo e doveva andare avanti, comunque lei è stato molto equilibrato e perfetto, brava giornalista. Per quanto riguarda la questione del Radel, il momento più emotivo per me era quando Trump si è incipato con questa sua idea di Abramo Lincoln, ricordiamo tutti che ci seguono che Abramo Lincoln è uno dei nostri più grandi presidenti che ha liberato gli schiavi per proclamazione nel 1865, che Abramo Lincoln è un grande presidente e Trump ha detto io sono il meno razzista presidente, il più pro afroamericano da Abramo Lincoln, forse più di Abramo Lincoln. A quel punto Biden ha fatto un sorriso ironico e gesticolando a Trump ha detto a differenza di quello che Abramo Lincoln qui pretende a dire, cioè prendendo in giro Trump che si spaccia come Abramo Lincoln, Biden ha detto, diciamo la verità, Trump è stato sempre un razzista, è un razzista, è il presidente più pericoloso in termini di incitare il razzismo che abbiamo e quando lui manda messaggi a supremetisti bianchi come i Proud Boys in codice dicendo state indietro, state pronti per violenza, questo è un razzista. Quindi io credo che per me questo è stato un momento in cui abbiamo chiarito che Trump è ridicolo. Dire io sono Abramo Lincoln, ho fatto più per i neri in America, l'uomo che ha liberato gli schiavi, chiaramente siamo, Trump è sempre meno lucido e più assurdo e più surreale quasi nelle sue dichiarazioni. Sì, poi sempre ancora un inciso sulla giornalista, in realtà ha saputo, credo, almeno si è vista così dalla reazione dei due sfidanti di stendere proprio gli anni, mi pareva, almeno questo è un altro particolare che è emerso durante la nottata italiana, che dopo un'ora e mezza di dibattito i due proprio sono apparsi ancora più distesi, ma grazie appunto alla freddezza della giornalista Trump le ha rivolto un sorriso e Biden è andato a congratularsi, insomma a fare i complimenti per come aveva saputo moderare il dibattito e non è facile, insomma, piacerebbe a me Alan confrontarvi in un dibattito, cioè nella moderazione del dibattito tra i due pretendenti e la Casa Bianca, deve essere effettivamente qualcosa di emotivamente forte, quindi mi immagino, anche perché tutti i riflettori sono puntati. Ecco, ti chiedo anche, poi se vuoi aggiungere anche qualcosa su questo, ma tu mi hai detto già molto, insomma, sulla moderatrice, di collegare anche l'ultimo rush finale prima delle presidenziali al pacchetto di aiuti per il sostegno all'economia americana, che ancora non c'è, insomma, tra democratici e repubblicani, ma con l'ottimismo di Nancy Pelosi, che dice siamo lì lì, se dovesse arrivare questo pacchetto di aiuti potrebbe dare una svolta ulteriore? Te l'avevo già chiesto la settimana scorsa, ma insomma, ormai i giorni sono sempre meno e quindi lo richiedo anche in questa sede, Alan. No, ci sono due eventi che io aspetto, fra qui e il 3 novembre, due grandi e importanti eventi in America. Il primo è che credo che ci sarà un accordo fra Nancy Pelosi e la Casa Bianca di mandare avanti circa 2 mila miliardi di dollari di aiuti di emergenza per stimolare l'economia e salvare famiglie, imprese, lavoratori, una specie di cassa integrazione, se vogliamo anche, ma non solo, tanto altro, e questo passerà. Il presidente della Banca Centrale Americana, Federal Reserve, Mr. Powell, dice quasi in ginocchio, per favore mondo politico americano dovete fare questo, altrimenti l'economia americana cadrà in una recessione ancora più pesante, è fondamentale questo, dice non un politico, ma il capo della Fed, quindi per me questo sarà fatto, sarà bene per il Paese, ma non riguarderà l'effetto sul voto di 3 novembre perché entrambi possono dire è merito mio. La seconda cosa che accadrà sarà tragicamente che un razzista, un militante di destra estrema, una donna evangelica che ha fatto le campagne contro il matrimonio gay, contro l'aborto, contro i dritti delle donne, Amy Coney Barrett sarà probabilmente confermato dal Senato ripubblicano come membro a vita della Corte Suprema in America e quindi Trump può perdere il voto il 3 novembre ma avrà messo tre giudici alla nostra Corte Suprema tutti e tre faccendieri politici di destra estrema, non giudici seri, quindi ha politicizzato la Corte Suprema così tanto che la vera questione sarà se dopo il voto, se vince Biden, si può fare qualcosa per salvare il nostro Corte Suprema. Molto chiaro Alan, come sempre, peraltro a questo punto non mi rimane che invitarti già in diretta oggi per il posto insomma, perché o comunque magari ci sentiamo anche nei giorni subito precedenti al voto perché così monitoriamo anche... Facciamo una cosa Manuela, ci vediamo un giorno prima e un giorno dopo. Ottimo, direi che è la cosa migliore, così facciamo un po' da ponte e vediamo, insomma possiamo anche proprio scrivere, no, e tenerci lì il foglio e dire vediamo cosa... E se qualcuno che ci guarda sulle fonti tv ha una domanda che vuole porre a me, posso mandarlo a Manuela Donghi all'email, qual è? Manuela? Allora, manuela.donghi.com, quindi semplicissimo, altrimenti Alan, anche sui social sai che sono tutti diretti messaggi e quindi possono farlo, anzi benissimo, lo faremo anche nei giorni precedenti magari ai tuoi interventi perché sarà interessante proprio scaldare ancora di più e movimentare di più le attese e il post, poi il post figuriamoci, ci sarà tanto da dire, però insomma non anticipiamo niente, dipende un po' quello che succede. Bene, abbiamo lanciato anche in diretta quello che avverrà sul fronte Trump-Biden qui sulle fonti tv, io ringrazio Alan Friedman e naturalmente ci sentiamo prestissimo, buona giornata Alan. A tutti voi. Grazie.